Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 14 maggio e parliamo di analisi ciclica evoluta sul DAX e sul Fuzzinib. In questo momento vi faccio vedere il grafico a 20 minuti, quello dove ci sono tutte le medie mobili che rappresentano tutti i cicli a partire dal T settimanale in verde. Come vedete le quotazioni sono sotto praticamente tutte le medie mobili. Oltretutto se guardate le più rapide, quelle azzurre del T-2 del ciclo 2 giorni e quella gialla del T-1 del ciclo 4 giorni, stanno tagliando in dead cross un po' tutte le altre. Quindi questa mattina potremo avere un'apertura a meno 143 punti e quindi in area 10.402 che si trova qua. Se apriamo qui, avremo tutto un T settimanale ribassista, quindi andremo ben oltre la condizione minima di cui vi parlavo ieri per la chiusura di un T più 2. Avremo persino la chiusura di un T più 3, ovvero di un trimestrale. Ma che target potremmo avere eventualmente se dovesse proseguire? Io vedo una media mobile viola che passa a 10.372 che ovviamente si modificherà come target al passare del tempo perché tendenzialmente salirà. Può essere un target interessante. Tenetevelo a mente. Passiamo sul grafico a candele a 15 minuti, il nostro classico. Se qui non abbiamo avuto un piccolo raccordo, cosa ancora da tenere a mente, perché in realtà il settimo T-3 può essere iniziato qui, siamo arrivati a 40 barre di discesa, 40 barre di settimo T-3. Viceversa saremmo arrivati a 31. E quindi alla massima estensione mancherebbero quante barre, ovvero quante ore? Mancherebbero 13 barre al massimo. E prendendo come ipotesi quella di avere primo raccordo, ne mancherebbero 13. Quindi 4, 8, 12, 3 ore al massimo di estensione massima di questo settimo T-3. Ciò significa che entro le 12 dovremmo avere un imbalzo di qualche genere. Ma al massimo alle 12. Quindi bisognerà fare attenzione a tante cose. Come ho fatto notare che ieri bisognava fare attenzione al Death Cross. Infatti, dopo tanti tentativi di spingerci fuori dal mercato, per 4 tic, perché lo stop loss era piazzato in maniera perfetta, ci ha dato invece un ottimo, ottimo gain con lo shop pianificato. Passiamo all'ultimo grafico. Passiamo a quello giornaliero, sempre su DAX. Qui possiamo notare che il nostro T2 mensile è arrivato a 37 barre, con oggi andremo a 38 su massimo 43. La condizione minima con l'apertura di oggi, della chiusura del T2 ce l'avremo a breve. Quindi, a parte quel livello che vi ho dato, tenetevi anche buono un livello sotto senza guardare persino l'algoritmo, orientativamente a 10.278. e poi ricordiamoci che saremmo arrivati già a 7 e con oggi 8 barre di T settimanale. Secondo T settimanale, quarto T settimanale del mensile, che solitamente va in estensione oltre il quarto, anzi, in questo caso non può andare in estensione oltre il quarto, perché avrebbe dovuto averne altri molto più brevi per andare in estensione oltre il quarto. Quindi questo è l'ultimo, che quindi ci può portare al massimo ancora 4 giorni compreso oggi di discesa, di borsa aperta sempre, e quindi sappiamo, grazie al tempo ciclico, quando ci potrà essere un rimbalzo e dove ci potrà essere un rimbalzo. Un rimbalzo, peraltro, che dato che partirà un secondo T2 mensile, ci farà salire di quanto e per quanto tempo o salire e barra lateralizzare. Cosa serve a lanciare un nuovo T2, un nuovo mensile? Serve un sottociclo di due gradi inferiori a rialzo, e quindi un T settimanale, che sviluppa i suoi massimi, anche se fosse teoricamente ribassista, nella sua prima parte, entro quindi i primi 4 giorni. Avremo quasi 4 giorni di rialzo, che ci aspettano dopo la chiusura del T2. E come faremo a capire quando si è chiuso il T2 effettivamente? Io ho l'azione di swing. Per cui capite, rispetto a tutti gli altri metodi, noi abbiamo un metodo estremamente dinamico, che ci permette di fare cose che gli altri non possono fare, perché non hanno il tempo. Noi non solo ci muoviamo nello spazio dato da prezzi e volumi, non solo su linee resistenze date da un algoritmo, che parte da GAN e arriva ai volumi, ma abbiamo anche il tempo della nostra. E se raggiungiamo l'inverso, abbiamo tante tante altre cose in più, perché temo che il vero T2 inverso sia partito qui, e che quindi abbia bisogno, appunto, abbia avuto bisogno di un T settimanale a rialzo per partire, e che poi finché non si tornerà, appunto, sopra 10.986 non ci permetterà di arrivare agli 11.235. E noi raggiungeremo questi massimi più tardi rispetto all'analisi weekly che vi ho fatto, ovvero in concomitanza, appunto, della partenza del secondo T2 del secondo mensile che aspetta di partire dopo la chiusura dell'attuale. Questo per quanto riguarda DAX. Per quanto riguarda, invece, Fuzzi Nib, l'apertura è abbastanza bassa, è abbastanza tragicuccia, nel senso che i future però sono a meno 248 punti e ci proiettano ad area 16.944, quindi qua, e quindi eventualmente, se ci fosse stato anche questo raccordo, comunque ad avere o un T settimanale partito da qua o da qua già vincolato il ribasso. Possiamo però sfruttarli? No, perché non possiamo andare short. Quindi, l'analisi direi che può finire comunque qui. E anche in questo caso, direi che possiamo escludere determinate possibilità. D'accordo? Questo è quanto. Vi ringrazio per il vostro tempo. Se pensate che questa analisi sia stata fatta in maniera corretta, che vi abbia dato qualche cosa, mettete un like, eventualmente sottoscrivete il canale gratuito e cliccate sulla campanellina per avere nuove informazioni, viceversa, chiedetemi dei miei gruppi Facebook, quelli su cui appunto mi dedico alla formazione di tutte le persone, una community di oltre mille persone ed un altro più ristretto in cui facciamo operatività. Si propongono ipotesi di trade, il premium. Per il resto saluto tutti i gruppi di trader che conosco, sia quelli su internet che gli altri, gli amici di WhatsApp e al telefono e vi auguro una splendida giornata. Per me lo sarà perché ho già deciso così.